Per informare i cittadini sui costi delle tecnologie che consentono un risparmio energetico e sugli incentivi fiscali è nato nell'Alto Vicentino lo sportello Energia. Ce ne parla Alessia Piovesan. Informazione gratuita su incentivi e offerte di mercato. Spesso chi vuole ristrutturare casa risparmiando energia grazie a pannelli solari o fotovoltaici ne ha bisogno. Dieci comuni dell'Alto Vicentino, Arsiero, Breganze, Marano, Piovene Rocchette, Santorso, Sarcedo, San Vitole Guzzano, Tiene Tonezza e Zulliano hanno aperto investendo 20.000 euro uno sportello Energia, un punto di consulenza serale attivo dal 12 gennaio per un anno e gestito da Lega Ambiente. Si può risparmiare molto e inquinare meno? Assolutamente sì, questo è l'obiettivo che si è dato all'Unione Europea con il 2020-2020 e che i sindaci di questo territorio hanno fatto proprio. Si tratta di amministrazioni che hanno già aderito al PAES il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile per ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Sono 6.400 i comuni europei che lo hanno fatto, 3.200 nel nord Italia. Nell'Alto Vicentino, capofila del progetto Sportello, è Santorso dove l'esperienza è partita già un anno fa. L'Europa dà dei target precisi, sollecita, una volta che uno si prende e sottoscrive degli impegni, mette a disposizione delle risorse e poi va a verificare se il lavoro è stato fatto. A dare il via a tutto un gruppo di acquisto solare, cittadini di Santorso che insieme hanno scelto aziende e prodotti una trentina gli impianti realizzati, abbattendo i costi del 15%. Il vantaggio del gas solare è fondamentalmente quello di migliorare la possibilità di agire nei confronti del mercato, non ti rivolge ad un fornitore unico ma si agisce tramite un capitolato e di conseguenza si ottiene un prezzo migliore. E hai la possibilità di scegliere, cosa che da solo come privato non avresti una cosa comparabile.